hanno donato ricevuto o svolto attività di volontariato sono 40 i protagonisti dei nove video del progetto all of me e coral story video che propongono uno spaccato concreto di tante storie di solidarietà nel nostro territorio filo conduttore è quello di sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue organi tessuti capofila del progetto finanziato dalla regione veneto lavis con la collaborazione delle aziende sanitarie e numerose associazioni all'interno di questo progetto che è finanziato dalla regione veneto abbiamo visto diverse figure di donatori di volontari di riceventi e questo è il bello di questo progetto mettendolo insieme ognuno di loro ha espresso la loro esperienza all'interno di questo volontariato l'uso del video e la realizzazione di filmati emozionali consente di valorizzare i giovani talenti ma anche rivolgersi e seminare la cultura del dono soprattutto tra i ragazzi toccanti esperienze personali che sono diventate storie corali di dono e così all of me con l'edizione 2023 ha puntato al coinvolgimento di un gruppo di testimonial del dono che si sono messi in gioco aderendo al percorso teorico sulla comunicazione e il digitale per poi cimentarsi nella realizzazione pratica del filmato ho cercato di cogliere anche quello che le persone all'interno di questi video volevano dire hanno dato molta emozione e sono video che sono facilmente esportabili nel senso portarli nelle scuole nelle attività con i giovani penso che questo progetto dia molto alla comunità i video verranno presentati il 21 luglio al lago film festival e a settembre alla mostra del cinema di venezia inizia 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 grazie adik